Fabio Palazzo, è stato un weekend proficuo, tre vittorie e tre. Sì, è andata bene, infatti era quello che speravamo tutti. Adesso andiamo a Milano e sicuramente andremo ad affrontare altre formazioni con un altro gioco e sicuramente più alto livello. Lo spirito è alto? Sì, altissimo, adesso siamo casatissimi da queste tre vittorie e andremo a Milano in casa nostra per fare meglio.